buona ragazzi con i nostri video di minecraft e siamo sul mio server con marco e il creeper e la redstone nella cesta dove la red faccio io non ho gli stick e fare altri 6 6 6 6 tu finisci la casetta del quarzo aspetta devo fare una cosa che c'è ma come a cavolo si chiama lo zombie, disturba non è vero no di più non ti disturba non ti aspetta aspetta odio scelghi perchè sta spoggendo mamma mia fa più bob dove sei why this lag why ma guarda che entra un po' di scuola sicuro il 200% ciao bob è stato non ci devo fare, non ci sei chiamato davvero? ah poverino è il mio zombie zombie quello è il mio zombie zombie no c'è il creeper no marco scusami no anch'io ti ho raccolto roba marco te la devo restituire è brutta roba scusa marco dai te la raccolgo sennò va via e poi te la restituire scusa marco sto scavando il blocco e tu sei salito su mi dispiace fa più ahio dai muoviti sto uccido il creeper mamma scusa non scendo dai dove sta andando così ti restituisco la roba sto provando a scendere ok sto scendendo non basta scusa mi l'ho fatta apposta marco dove sei? marco aspetta rimane al piano terra rimani lì se no ci perdiamo ok vieni girati 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 fa più ok allora tu butto tutto allora questo è tu 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 eh allora cos'altro questi sono tu avevo un po' di pane pane non ne ho io pane ah ne ho 27 aspetta ne avevo 15 ne avevo 15 ne avevo 14 tieni un altro tieni 15 guai avevo 46 livelli ma te mi manca o no cosa mi manca un po' di torce ah ecco te ne rubate altre tieni mi manca un piccone nuovo ah adesso te lo do ah ecco allora tutti vedete questo ma è tutto c'è della codicella no aspetta 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 no era poco poco usato vabbè ti do quella buona smettila ma sta facendo niente cosa credi che stai facendo aia cosa mia quella quella è vabbè immesso che sbaglii sempre sono dei riusciti di Creeper Creeper, se è reddito dead no, dove sono andato? merda, sono caduto di nuovo qual sono? Marco, posso dirti come... oh mate mi hai rubato una freccia una freccia eh scusati te l'ho buttata no, 28 te l'ho buttata 27 secondi una torsione infinita allora aspetta, prima di chiudere questo dai, però muoviti e va bene, soffri perchè il Creeper è sopra la testa di Bob Creeper non dovrebbe scudere là sono cretina che vuoi il dottor c'è Creeper, morirai che vuoi che fa panna Creeper, se è storia, mi arrabbia morto fuoco mi posso definire un castretto davvero? si ah va totà 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 Marco uffa, mi ha fatto sfaventare c'è Marco ma se mi sono... ma smatte, guarda che io mi sono buttata giù mi è arrivata una cosa di fuoco vabbè diceva Marco davvero? si Marco diceva devi guardarti per forza l'ultimo episodio che ha caricato Brent di Fable Beast l'ho visto, l'ho visto l'ho visto dove sta raccogliendo la lettervart e gli arriva il Creeper da dietro e gli arriva il Creeper da dietro e gli arriva il Creeper da dietro e lui e lui e poi arriva sulla Gigi mi hai depurso il bambino io l'ho visto si no al quinto minuto e 31 secondi poi sono venuta da te a giocare il mio zombie zombie il mio zombie zombie il mio zombie zombie Marco secondo te il Creeper mi dà fastidio tantissimo lo uccido lo uccido io personalmente vuole un po' di cocco il mio zombie io what the fuck Matti Matti vieni da me guarda vieni un secondo il mio zombie zombie tutto bene guarda il zombie zombie ha facciolo non lo sto shiftando ho shiftato anche lo zombie guarda che esce ti shifto ti shifto mi ti shifto mi lo abbiamo ancora shiftato lui piove c-Dio un'idea di un'idea di un'idea un'idea per caso questo si sta rimellando per me non volete il buc molto buco non è giung bion no 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 dentro ho sbagliato allora devo vedere una cosa Ok visto che non ti prendi roba di diamante altre cose No, no, no... Altre cose fappose Fapposissime Allora Voglio sapere che di di una cosa Ok Allora Scaline Ehi! Marco! Io la distruggo personalmente quella cosa di quarzo e lo muto tutta nella lava, dai! La raccogliamo nel lettero, dai! Basta con le cose prese con i trucchi! Ma noi devi andare al luogo oh 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 oh... Sì, è arrivata l'esperienza del Creeper. Ah, è forte. È bisogno di fuoco. Perché? Sì, sì. Allora. Sì, è zombie zombie. Il tuo zombie zombie. Sì, è zombie zombie. Dai. No, no, fuggi. Il mio zombie. Ma dopo quanto dove stanno i mostri? Che cazzo ti faccio? Fa posissima. Fa posissima la Prestor Pate. C'è. Ma a te. Con cosa che materiale ho usato per farle? Le torce. Sì, no, no. Eh, le torce queste qua. Ci vuole glowstone. Ci vuole un blocco di glowstone e la redstone. Basta. Ah, già lo sai. È me. Già lo sai. Aiuto, la go. Dai, dormiamo, Matteo. Sì, ok. Adesso che ho shiftato anche lo zombie sono più contento. C'è Marco, anziché dormire, fermiamo Ender Pearl. Non dormire, fermiamo Ender Pearl. Ok. Ok. Aspetta, io ho deposito tutta la roba. Lampada. No, è l'alba. No, è l'alba. Aspetta, non mi frega niente. Voglio la notte. E quando arriva la notte, la notte... E adesso è il sole. Eh, vedo questa canzone. Che scema è quello. Un Enderman! Marco. Che cavolo. Marco, ma fa più. Secondo te, è molto più alto il cazzo, non è lì. Non vale, non vale. Fa più. Cazzo. Mori, mori, mori. Fa più, fa più. Fa più. Dov'è? Oh, cazzo. Marco, ma sei un cretino. Sei, scusami. Matteo, vai nella lampada. Non ti attaccano. Aiuto. Oh, cazzo. Sì, che ti attaccano. Oh, aiuto. Oh, aiuto, Marco. Come hanno fatto, scusami. I don't know. Sento un Enderman, Marco. Non mi spera. Sento, tipo Enderman giù, sento. È possibile. Sento Enderman. What the fuck? I don't know. Non mi spero di fare una cosa intelligente, io. Aspetta un attimo. Dai, cosa facciamo allora? Cosa dovevo fare? Le lampade le ho messe tutte? Sì, fuck me. Ho preparato un po' di pressure plate. Sei, Marco? Sento l'Enderman qua. No, ho sbagliato, porco dite. Ma se diventa un limone. Bravo. No, non farti l'armatura ad ora, non spreco. Sì, a me piace è loro. Ah, c'è, troppo sigo. Marco, è pieno di Enderman da te, vero? Sì. Oh, cazzo. Ma te vai a casa tua. Ok. Non fa più, eh, Carmen. È pieno di Enderman. E... Ti ho guardato a te, no? Non ti ho guardato, ma ti sposti? Oh, cacchio, mi stiamo attaccando. Oh, 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 oh. Aiuto, aiuto. Aiuto. No, io non ti aiuto, posso impari a sponare, a far sponare, a far sponare. Allora, che si devo fare? No, è un'altra cosa. Sì, sì, spostati. Spostati. Ciao, Enderman. What's up? Ti sposti? Spostati. Dave. No, non la stiamo presso. Why? What? No, un Enderman ha preso il mio blocco. No, Marco, se mi tolgono i blocchi... Uccidili, uccidili tutti. Uccidiamoli. No, Marco, se mi tolgono i blocchi li scoppio. Li scoppio tutti, cavolo. Pronti, Enderman? Pronti per subire la mia spada? Ops. Marco, cavolo. Uffi, sono morto. Sono morto. Sono morto. Vedi? Sì. Tantorina, scottoli. Ah, io mi stanno picchiando, cavolo. Mi stanno picchiando, perché? Ah, ne ho guardato una forse. Aiuto, aiuto. Enderman mi fai. Ma se poi magari la smetti di far sconare Enderman così. E basta, Marco, dai. Altri nove. no, basta, mi distruggono tutta la casa adesso mi faccio suonare creeper no, davvero, basta 2 finito ti uccido, se no li togli tutti ti uccido pronto a colpire tutti non mi frega niente, poi mi distruggono la casa no, faccio io no, ma te li uccido io, lascia oh cazzo, oh cazzo ma sto distruggendo tutto aiuto eh dai, ma sto distruggendo tutto uccidiamo ok, almeno se ne sono andati tutti? no, vabbè, sono fuori che si teletrasportano a Kaiser perché un altro, eh Marco, basta ho finito ho finito vengo ad attaccare non ti è venuto a Marco Marco, però tutte le enderperle che ricaviamo le buttiamo, eh non è così che si chiama le enderperle oh no, non ne ho ma non ne ho non hai capito che non ne ho io ne ho una, ne butto adesso eh, non è giusto eh, buttala eh, lo buttate allora cosa devo prenderà? a vetro mamma 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 ma per se che mi sono dimenticato come si faceva la pozione di rigenerazione Marco mi ha rubato un bel po' di mattoni di pietro di rigenerazione non lo so, forse è quella dei gas no, sì sì, è quello dei gas perché stai utilizzando le presuppete così eh, Marco fidati, vabbè, non ci vuole niente dimmi, dai, me li dai i cosi le ematori non ne ho prendili, sei creativa, scusa quanti erano? 50 erano 50 mettiamo 50 allora vabbè blocchi decorativi no, sì no blocchi decorativi vabbè, 49 ok devi mettere la barra magari eh, ma non c'è la barra ma fa più ahia Marco, cavolo, basta sei morto no no, di più dai, ti do un po' di esperienza quanta esperienza avevi? 30 37 no, 99 no ma mi hai rubato pure la maglietta in diamante te l'ho, te l'ho, te l'ho lanciata te l'ho lanciata dove è la mia maglietta in diamante? aspetta aspetta un attimo grazie quanto ne hai? eh, quanto aspetta non si vede ancora non si vede ancora dai Marco, dove la 33 ne ho? vabbè, non fa niente non è così e dove è la mia maglietta in diamante? no, non ce l'ho davvero eh, mi sei finito forse si è finito perché qualcuno ha fatto sconare a rendermi così no Marco, non fa niente vabbè allora non sono le mie lampade di pietra rossa Marco ah no, sono qua è tutto ok non è che scema ci sono anche i mattoni allora erano 13 ah, no Marte eccola qua l'ho trovata le lampade le lampade le lampade le lampade qua 10 lampade ah ecco no, non è mica il nuovo Marco zitto ok ok allora come è l'ha presso Nate che palle dobbiamo fare qualcosa stai distruggendo tutto qua e basta ma sono in creativa che cavolo perché non mi rai? ah vedo faccio la lampada e qua fa più non so che fare questo pezzo è andato finisci la casa di quarzo è andato l'ho doveva dormire è andato con il quarzo preso dalla Krav ero no, lo puntò ti give me oh, basta c'è un anderman qua eh cazzo mario cazzo no sono caduta ce n'è anche dentro casa basta non ho fatto niente io sono quelli di prima la mia moglietta è questa era caduta giù per fortuna l'ho ritrovata per fortuna che sono andati in crepita ma cosa c'è qua se la smetti di fuga marco lo lasci così com'è non ho capito cosa fosse perchè non si accede manca ma non si perde metto blocchi diversi io intanto dormo perchè sono eccoci c'è uno scalino ah no c'è il mio zombie zombie che ti sta prontando ma davvero vabbè vabbè allora ciao ciao giovanni cosa che mi metto in crepita se magari la smetti come posso mettere in crepita scusa come? in che senso ti metti in crepita in crepita in crepita come hai appena fatto come? in crepita in crepita in crepita in crepita in crepita allora è andermi sì che tratterebbe uno non è notte ma sta sorgendo il sole forse no? sta tramontando sì sì è lago oh no sto cadendo di sotto anch'io lago no perchè sono uscito ma te vuoi che tutti vedono il tuo server così eh dpi basta che non sanno ah vero ci piace allora basta che non sanno com'è qual'è il cosa non mi fai niente tanto basta che non sanno qual'è la password del e le e la calma che macci e non possono fare niente ma basta che io scrivo così tanto io la taglio il pezzo se scrivi e ancora in crepita basta basta marco la smetti grazie no mi sono messo io in crepita che scema o no va bene va bene dovrino a te eh un secondo sto raccogliendo i sabbi è lago bella eh aspetta magari se lo uccide 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 allora è tutto ci vediamo nel prossimo episodio arrivederci bella